Nino Cartabellotta è stato a proposito di Covid molto attivo nella fase della comunicazione e lo vorrei coinvolgere sotto questo doppio versante, sia l'esigenza di generare una percezione corretta nei cittadini di quelle che sono poi le specificità del servizio sanitario, del servizio salute, sia per dirci un po' la sua opinione su questo modello che ormai, come voi sapete, è un modello di società data-driven e quindi anche di sanità data-driven sostanzialmente. Grazie Francesco. Mi ha acceso il microfono? Usa questo. Ecco, questo si sente. Grazie, va bene così. Grazie Alberto per l'invito. Ovviamente saluto tutti i colleghi. Parto dalla risposta alla seconda domanda, Francesco, perché noi spesso facciamo confusione tra i termini quando parliamo di competence professionale. La competence professionale, ecco, e in questo caso il termine inglese non è traducibile, è fatta di tre cose. Il saper essere, il sapere, il saper essere e il saper fare, che diciamo in un'ottica declinata moderna sono le conoscenze, le skill e le attitudini, di cui parliamo noi molto poco. Noi spesso come competenze professionali, quando parliamo di competenze professionali, ci riferiamo solo alle skill tecniche, mentre in realtà il concetto di competence è molto più ampio e tiene in considerazione questo triangolo. Il problema delle attitudini non è un problema di poco conto, anche perché, anche qua faccio io la prima delle mie due chiose, noi di fatto in Italia non abbiamo un sistema per valutare la competence professionale in tutte e tre le dimensioni, in quelli che sono tutti gli ambiti, l'ambito dell'organizzazione sanitaria, l'ambito delle cure primarie, ospedaliero, di altra natura. Perché il meccanismo di formazione sappiamo come funziona in maniera lineare, c'è una formazione universitaria, c'è una formazione specialistica e poi comincia l'educazione continua in medicina, che però, nonostante credo che siano 20 anni, nel 2002 è nata la fase sperimentale, non si è mai trasformata in sviluppo professionale continuo. Cioè noi non siamo mai riusciti a integrare il sistema delle conoscenze acquisite in un sistema attivo di modifica dei comportamenti professionali. Perché alla fine, andando a guardare la letteratura sulla scienza dell'educazione, delle professioni sanitarie, ma anche di tutte quelle che sono le professioni esistenti, l'obiettivo ultimo della formazione continua non è acquisire nuove conoscenze e nuove competenze, quindi conoscenze e skill, ma è modificare i comportamenti professionali. Cioè io posso acquisire tutte le conoscenze e le competenze tecniche, ma se torno nel mio posto di lavoro e continuo a fare quello che facevo prima, perché la professione medica, come tante altre professioni sanitarie, sono fortemente condizionate dalle resistenze al cambiamento, e qua torna Silvio quello che diceva, sull'implementation science. È evidente che tutto il sistema di formazione continua è diventato negli anni un po' una sorta di creditificio. Cioè abbiamo acquisito tante conoscenze, abbiamo fatto tanti crediti, però non riusciamo a misurare qual è l'impatto delle conoscenze e delle competenze acquisite sulla modifica dei comportamenti professionisti. Poi ci sarebbe un ultimo gradino nella piramide di Kirkpatrick, che si occupa di formazione e sa bene a cosa vi referisco, che è quella del miglioramento degli esiti di salute. Ma ci accontenteremo di conoscere qual è la modifica dei comportamenti professionali, in particolare in termini di appropriatezza prescrittiva, di comunicazione col paziente e quant'altro. Questa è la prima considerazione generale. La seconda è che, come dicevo, noi non abbiamo un sistema che valuta le competenze professionali. Ecco, credo che si siano fatte delle sperimentazioni varie in aziende sanitarie, ma molto occasionale, perché di fatto in Italia non c'è un sistema di revalidation del medico. Noi ci lavoriamo, ci acquisiamo l'abilitazione, ci spegniamo l'abilitazione e poi cominciamo a lavorare. E l'unico strumento che abbiamo per definire quella che è la qualificazione professionale è il sistema di educazione continua e medicina, che presenta quel problema di cui parlavo poco fa. Allora, noi non possiamo parlare e pensare a nuove competenze tecniche, a nuove conoscenze da acquisire, tra cui quelle digitali, se non rivoluzioniamo un po' il modo con cui queste competenze devono essere mantenute nella formazione professionale, nello sviluppo professionale continuo. Anche perché ormai da anni, credo che siano 25 anni, che le scienze della psicologia cognitiva ci ha insegnato una cosa fondamentale. Le conoscenze che noi acquisiamo in maniera finalistica, cioè lo studio finalistico o il corso di formazione che facciamo tanto perché ci piace, aumenta le nostre conoscenze, ma è un'informazione che non diventa e non si integra nei nostri processi conoscitivi. Invece la vera informazione è quella che ci serve, quando noi la cerchiamo attivamente in risposta degli stimoli. Cioè io ho un problema con un paziente, faccio una ricerca bibliografica, approfondisco dei contenuti e questo fa sì che l'informazione diventa conoscenza, entra in quelli che si chiamano le reti semantiche neurali e di fatto modifica i miei comportamenti professionali. Allora, al di là dei contenuti che sono fondamentali, cioè non si può oggi, ecco mi ero appuntato anche due cose che vado a concludere e ve le cito perché sono fondamentali, perché sono state pubblicate proprio in questo documento di Lancet sabato scorso. Al di là di quelli che sono i contenuti, noi dobbiamo ragionare su quello che è il modello con cui intendiamo far acquisire alle nuove generazioni di medici quello che è il principio del self-direct, autogestito, lifelong learning, cioè capacità di autogestire la propria formazione durante tutta la vita. C'è una quantità enorme di nozioni oggi, finisce paradossalmente per essere obsoleta nel momento in cui io entro nel mondo professionale e quindi spesso arrivo nel mondo del lavoro con tante conoscenze, ma senza le competenze per autogestire la mia autoformazione e il mio sviluppo professionale continuo. Questa è la grande sfida, anche perché le conoscenze scientifiche, sappiamo tutti, che si rivoluzionano giorno dopo giorno e se io medico, ma qualunque altra professione sanitaria, non sono in grado di acquisirle attivamente, perché proprio quella ricerca attiva mi permette di integrarle in quella che è la mia pratica professionale, e di modificarla, noi possiamo sviluppare tutti i percorsi formativi del mondo, ma non abbiamo trovato la chiave giusta per modificare i comportamenti professionali. Vi cito solo alcune delle cose che questo documento, che vi invito a leggere, è uscito sabato scorso sull'Anzat, che parla delle opportunità e delle sfide della formazione dei professionisti sanitari nel dopo Covid, quindi il riparte della pandemia. Tecnologie informatiche e interpretazione del big data, quindi tutte parole che sono già uscite questa mattina. Intelligenza artificiale e machine learning nelle decisioni che riguardano la salute. Campi di applicazione e limiti della telemedicina, non pensiamo che sia una cosa che possa risolvere tutti i problemi. Cambiamenti del clima e della salute, approccio One Health e Planetary Health, che il professor Busaferro sa con il programma dell'ISS di che cosa stiamo parlando. Comunicazione, qua la risposta alla prima domanda, attraverso i social media, per aumentare le conoscenze basate sulle evidenze scientifiche, e attenzione, contrastare la disinformazione sulla salute. Cioè, la battaglia che noi abbiamo condotto nel corso di questi due anni, anche sui social, non è stata solo di informazione scientifica, ma è stata anche di contrasto alla disinformazione. La domanda è, quanti sono i medici che in prima linea hanno affrontato non solo una divulgazione di un'informazione scientifica corretta, ma anche il contrasto alla disinformazione? Perché tu sai benissimo che sui social sono i numeri quelli che poi fanno massa. Cioè, i Novakris sono una sparuta minoranza, ma se andiamo a contare in termini di retweet, di like, di altre, diciamo, interazioni sui social, sembrano un numero enorme, che condizionano anche, voglio dire, scelte di tipo politico. E poi tutti quegli aspetti che riguardano team work e leadership, tra vari professionisti sanitari, anche col mondo sociale, e la collaborazione interprofessionale. Quindi, i contenuti del medico del futuro e dei professionisti sanità del futuro ci sono tutti. Quello che è importante è capire quale modello didattico noi intendiamo intraprendere, soprattutto nella formazione continua in medicina, che deve diventare sviluppo professionale continuo, integrato nell'attività professionale tutti i giorni. Altrimenti avremo acquisito tante conoscenze, fatti tanti gradi di formativi, ma non avremo migliorato la qualità dell'assistenza. Grazie, grazie a Nino Cartabellotta per questo suo intervento. ci ha raggiunto sul palco il proposito di... Grazie. Grazie.